Questa video-lezione è dedicata all'equazione della circonferenza, argomento di terzo liceo scientifico. Ho sbagliato anch'io quest'anno, quest'anno una terza liceo scientifica, perché ho seguito il testo in adozione, ho trattato prima la parabola della circonferenza in geometria analitica. Sbagliato. Bisognerebbe prima trattare la circonferenza e poi la parabola, come fa questo testo, che ho in adozione però in un'altra classe, perché l'equazione della circonferenza è semplicemente più facile. Ovviamente, principio-base, principio-principe, principio-principe della didattica, si fanno prima le cose più semplici, poi le cose meno semplici. Prima andrebbe fatta, a mio modesto e sommesso avviso, l'equazione della circonferenza, perché è più semplice sia come definizione che come equazione della parabola. Allora, procedimento tipico della geometria analitica, dal luogo geometrico, dalla definizione del luogo dato a parole, arriviamo quasi subito, perché è semplicissimo, all'equazione del luogo. Che cos'è una circonferenza? La circonferenza è il luogo dei punti equidistanti da un punto fisso detto centro. Questa volta il centro lo dobbiamo chiamare C e non ho come comunemente si fa, perché o ci serve per l'origine il sistema di assi cartesiani entro cui vogliamo disegnare la circonferenza, ma la definizione di circonferenza è questa, il luogo dei punti equidistanti da un punto fisso detto centro. Ovviamente, la distanza fra il centro e il punto generico della circonferenza sappiamo che è essere il raggio della circonferenza stessa, quindi il segmento PC, distanza dal punto P al centro della circonferenza, da noi verrà indicato con R piccolo e sarà il raggio della circonferenza. Come da questa definizione a parole arriviamo subito, in maniera semplicissima, all'equazione della circonferenza? Beh, intanto disegniamo la circonferenza in un sistema di assi cartesiani ortogonali e praticamente, cioè, facciamo così, abbiamo un sistema di assi cartesiani ortogonali, il centro C della circonferenza e il punto P di coordinate XY generico. Chiaro? Generico punto della circonferenza, P di coordinate XY, il centro C. Diciamo alfa e beta, come usuale, le coordinate del centro, quindi alfa sarà l'ascissa e beta sarà l'ordinata. Chiaro? Quindi diciamo invece R la misura del raggio, quindi le posizioni che facciamo è che la distanza PC, C, cioè il raggio della circonferenza, e il centro e il punto di coordinate alfa e beta. Chiaro? Arriviamo immediatamente all'equazione della circonferenza utilizzando la formula della distanza fra due punti. Sappiamo che la distanza fra due punti in geometria analitica è data dalla radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze delle coordinate omonime, cioè dello stesso nome, ascissa meno ascissa, ordinata meno ordinata, e allora immediatamente arriviamo all'equazione della circonferenza. Perché? Se i punti di cui dobbiamo calcolare la distanza sono XY e il centro C di coordinate alfa e beta, praticamente la distanza PC da che cosa è data? La distanza PC. La distanza PC è data da la radice quadrata della coordinata del primo punto, ascissa del primo punto, meno ascissa del secondo punto, alfa, vedi, X meno alfa. Chiaro? Al quadrato, perché è la somma dei quadrati delle differenze fra le coordinate omonime, come vengo dal dire, no? Quindi più Y meno beta, no? Ordinata di P meno ordinata di C. Y meno beta. Ovviamente al quadrato. Possiamo bypassare questa radice quadrata elevando al quadrato PC, tanto PC deve essere uguale a R, andremo a dire che questa quantità qui, senza la radice quadrata, sarà uguale ad R quadro. Chiaro? Quindi da qui desumiamo subito X meno alfa al quadrato più Y meno beta al quadrato uguale a R quadro. Vedi, ho tolto la radice quadrata, ho elevato al quadrato R. Chiaro? Cosa ci rimane adesso da fare? Sviluppare questi due quadrati. Quadrato del primo termine, quadrato del secondo termine, doppio prodotto. Ricordiamo che il quadrato è sempre positivo. oppure per il secondo quadrato, quadrato del primo termine, quadrato del secondo termine, doppio prodotto, meno R quadro, possiamo portarlo al primo membro, uguale a zero. Chiaro? Allora, il termine in X quadro mi va bene e lo scrivo qua. Il termine in Y quadro, riordiniamo i termini, mi va bene e lo scrivo qua. Poi, però, faccio un riordino, diciamo, eseguo un riordino. Meno 2 alfa X, scrivo, poi il termine in Y, meno 2 beta Y, e poi i termini, il cosiddetto termine noto, cioè quei termini che non contengono né X né Y, che sono alfa quadro più beta quadro meno R quadro. Chiaro? Alfa quadro più beta quadro meno R quadro uguale a zero. Ci siamo? Benissimo. A questo punto, allora, che cosa facciamo? il termine meno 2 alfa non mi piace, lo chiamo A. Il termine meno 2 beta non mi piace e lo chiamo B. Il termine noto che non contiene né X né Y alfa quadro più beta quadro meno R quadro lo chiamo C. E allora, se tanto mi dà tanto, X quadro più Y quadro più AX più BY più C uguale a zero è l'equazione di una circonferenza. equazione della circonferenza, anzi diciamo scritta in forma canonica si dice, scritta in forma canonica. X quadro più Y quadro più X più BY più C uguale a zero. Quindi, l'equazione di una circonferenza è un'equazione di secondo grado in X e Y contiene il termine in X però di primo grado, il termine in Y anche di primo grado, il termine noto, non contiene, attenzione, il cosiddetto termine diagonale, cioè il termine in XY. Non esistono termini in XY. Nell'equazione della circonferenza dobbiamo avere un termine in X quadro, un termine in Y quadro, un termine in X, un termine in Y, un termine noto. Chiaro? Allora, come si, quindi, abbiamo immediatamente risolto il problema. Praticamente, in sette minuti abbiamo ricavato l'equazione della circonferenza. Cosa dobbiamo dire come semplicissime applicazioni di questa equazione? Per esempio, che io da un'equazione posso desumere immediatamente le coordinate del centro e del raggio perché se meno 2 alfa è uguale ad A e meno 2 beta è uguale a B, se tanto mi dà tanto è chiaro che alfa scissa del centro sarà uguale a meno A mezzi. Chiaro? E beta ordinata del centro sarà uguale a meno B mezzi. Cioè, l'opposto della metà del coefficiente di X mi dà l'ascissa del centro. L'opposto della metà del coefficiente di Y mi dà l'ordinata del centro. È chiaro? Ovviamente, se io avessi alfa e beta uguale a 0, cioè circonferenza con centro nell'origine, che cosa otterrei come caso particolare? X quadro più Y quadro più C uguale a 0. Chiaro? Ma, in particolare, se il raggio fosse uguale a 1, che cosa otterremmo? Otterremmo la circonferenza coniometrica, cioè proprio quella circonferenza di cui ho parlato nella videolezione di ieri, però, in quanto ancora più semplice di questa, è rivolta ai ragazzini di prima liceo scientifico. Ora vediamo questo discorso del raggio unitario che cosa vuol dire, perché, chiaramente, l'equazione della circonferenza coniometrica, che ieri ai ragazzini di prima ho detto essere X quadro più Y quadro uguale a 1, praticamente, si deve desumere come caso particolare di questa. Ma, vediamo, mi chiedo, un'equazione di questo tipo che ha un termine X quadro, un termine Y quadro, un termine X, un termine Y, un termine noto, rappresenta sempre una circonferenza? Non è detto perché? Anche se i termini di X quadro e Y quadro hanno coefficienti pari a 1 o comunque uguali, non è detto che questa equazione rappresenti una circonferenza. Perché? Per un motivo molto semplice. Allora, come facciamo a calcolare la misura del raggio di questa circonferenza? E praticamente, perché come calcolare le coordinate del centro? Vedi, l'ho appena detto. Ma per il raggio che cosa dobbiamo fare? E per il raggio dobbiamo ricordare la posizione e il valore di C. Vedi? A alfa quadro più beta quadro meno R quadro doveva essere uguale a C. Quindi, alfa quadro più beta quadro meno R quadro deve essere uguale al cosiddetto termine noto a C. Va bene? Ma allora il quadrato del raggio R quadro a che cosa deve essere uguale? Ad alfa quadro più beta quadro meno C. Chiaro? in termini di coefficienti siccome alfa quadro è uguale a da quadro quarti perché vedi se alfa è uguale a meno a mezzi alfa quadro è uguale a da quadro quarti quindi il raggio la misura del raggio viene pari a da quadro quarti quadrato di alfa più B quadro quarti quadrato di beta meno C. Ora in effetti siccome questo è un quadrato questo dovrebbe essere maggiore o uguale a zero io preferirei non usare il termine uguale perché comunque siccome abbiamo il raggio della circonferenza dire che la circonferenza il raggio nullo è un po' strano è una circonferenza degenere quindi non una circonferenza cioè una circonferenza che degenera nel suo solo centro se il raggio è nullo quindi potremmo anche dire maggiore di zero forse sarebbe meglio dire maggiore di zero non maggiore o uguale a zero però come fanno un po' tutti i testi scriviamo maggiore o uguale a zero adeghiamoci all'uso e allora vedi se io moltiplico per 4 questa disequazione questa condizione ottengo a quadro più b quadro meno 4c maggiore o uguale a zero ecco la condizione sufficiente oppure necessaria se da sola sufficiente cioè oltre al fatto che i termini in x quadro e y quadro devono avere o lo stesso coefficiente o comunque coefficiente pari ad uno ci vuole anche quest'altra a quadro più b quadro meno 4c se non è maggiore o uguale a zero neanche a piangere in cinese un'equazione di questo genere potrebbe rappresentare una circonferenza no? perché vorrebbe dire un'equazione di raggio uguale a zero o addirittura minore di zero chiaro? quindi quali sono le condizioni le condizioni necessarie sufficienti affinché un'equazione di questo tipo rappresenti una circonferenza che il coefficiente di x quadro e di y quadro siano uguali i coefficienti di x quadro e di y quadro siano uguali e anche a quadro più b quadro meno 4c deve essere maggiore o uguale a zero condizioni necessarie e sufficienti una sola delle due è necessaria ma non sufficiente occorre che questo sia maggiore o uguale a zero ma non basta occorre basta invece che questo sia maggiore o uguale a zero e che i coefficienti di x quadro e di y quadro siano uguali non uguali a uno ma comunque uguali se non sono uguali a uno per esempio ecco vediamo che cosa succede è chiaro che si dovrebbe dividere per questo coefficiente comune chiaro? è interessante sono interessanti degli esercizi sulla circonferenza ma ne facciamo solo uno a titolo di esempio interessanti degli esercizi sulla circonferenza al di là del calcolare il raggio la misura del raggio e le coordinate del centro che sono banali potrebbero essere dunque potrebbero essere interessanti esercizi di questo tipo ad esempio se io ho un'equazione di una circonferenza dipendente da un parametro x quadro più y quadro per esempio meno 2x meno più 2y più 2y più k più 3 uguale a 0 vedi equazione di una circonferenza dipendente da un parametro esistono delle condizioni a cui devono sottostare i coefficienti in particolare il parametro k in modo tale che questa sia l'equazione di una circonferenza e beh certo che esistono perché vedi a quadro più b quadro meno 4c deve essere maggiore o uguale a 0 l'abbiamo detto prima ora a è uguale a meno 2 in questo caso b è uguale a 2 e c è uguale a k più 3 quindi se io devo imporre che a quadro più beta quadro meno 4c sia maggiore o uguale a 0 ecco vedi questo testo pone pone la traccia in maniera corretta vedi rappresenta una circonferenza eventualmente del genere perché se io voglio proprio una circonferenza per circonferenza io devo intendere la circonferenza non del genere quindi io questo uguale non ce lo vorrei ma siccome il testo mi chiede una circonferenza eventualmente del genere allora metto il caso dell'uguale cioè verrebbe il caso di raggio uguale a 0 chiaro? e allora se a quadro più beta quadro meno 4 a quadro più b quadro meno 4c deve essere maggiore o uguale a 0 praticamente che cosa ho numericamente a quadro a quadro e 4 b quadro eppure 4 meno 4c cos'è? meno 4 per k più 3 se vogliamo la circonferenza siccate simpliciter e non la circonferenza del genere dobbiamo porre maggiore di 0 se no maggiore o uguale a 0 vediamo anche il caso del genere chiaro? quindi 8 meno 4k meno 12 deve essere maggiore o uguale a 0 mi spiego? cioè meno 4k maggiore o uguale a quanto? 12 meno 8 ma 12 meno 8 fa 4 come ti ho scritto potrai vedere sul modulo sulla video lezione delle disequazioni abbiamo 4k minore o uguale a meno 4 perché praticamente dobbiamo cambiare il segno della disequazione e anche il verso no? 4k minore o uguale a meno 4 4k minore o uguale a meno 4 vuol dire k minore o uguale a meno 1 chiaro? quindi questa è la condizione a cui deve sottostare il parametro k se vogliamo che questa sia l'equazione di una circonferenza però attenzione caso semplicissimo se abbiamo una circonferenza con centro nell'origine e raggio pari a r qual è la sua equazione? la sua equazione applicando semplicemente il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo o ph qual è? se p ha coordinate x e y tu vedi bene che il cateto orizzontale misura x il cateto verticale misura y e l'ipotenusa misura op cioè il raggio no? e allora applicando il teorema di Pitagora io posso scrivere x quadro più y quadro uguale a tre quadro cioè in maniera semplicissima vi ottengo l'equazione di una circonferenza con centro nell'origine chiaro? senza fare il caso parte generale no? semplicemente questa è l'equazione di una circonferenza con centro nell'origine e raggio r quindi se il raggio è uguale a tre per esempio l'equazione alla circonferenza con centro nell'origine e raggio tre sarà x quadro più y quadro uguale nove mi spiego se il raggio è quattro x quadro più y quadro uguale 16 se il raggio è cinque x quadro più y quadro uguale 25 chiaro fin qua? benissimo allora come facciamo a realizzare l'equazione di una circonferenza da qui questa si ottiene anzi l'equazione della circonferenza coniometrica qual è? x quadro più y quadro uguale 1 perché il raggio di una circonferenza coniometrica è pari ad 1 va bene? ma vedi per parlare di circonferenza coniometrica basta fare il teorema di Pitagora che si studia in seconda media non c'è bisogno di fare l'equazione della circonferenza ma visto che ora noi siamo in terza non media ma liceo scientifico e abbiamo che l'equazione di una circonferenza x quadro più y quadro più x più by più c uguale 0 se io volessi scrivere l'equazione di una circonferenza con centro nel punto di coordinate 0 0 cioè l'origine e raggio pari a 1 che cosa dovrei scrivere? ma mi dovrei ricordare intanto che il termine x e il termine y mancano perché per essere alfa uguale 0 anche a è uguale a 0 no? per essere beta uguale 0 anche b è uguale a 0 e quindi questo termine manca avremo x quadro più y quadro più c uguale 0 ma quanto deve essere c? beh sappiamo che a quadro più b quadro meno 4 c dunque alfa quadro scusa pardon alfa quadro più beta quadro meno meno c deve essere alfa quadro più beta quadro meno c deve essere uguale al quadrato del raggio no? ma se noi vogliamo che il raggio sia uguale a 1 alfa quadro più beta quadro meno c deve essere uguale a 1 ma siccome abbiamo visto che alfa e beta sono uguali a 0 meno c deve essere uguale a 1 attenzione c quindi deve essere uguale a meno 1 quindi da questa come caso particolare centro nell'origine ragionitaria otterremo x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0 che altro non vuol dire che x quadro più y quadro uguale a 1 cioè equazione di una circonferenza goniometrica con centro nell'origine cioè circonferenza goniometrica cioè una circonferenza con centro nell'origine e il raggio unitario chiaro? ovviamente la circonferenza goniometrica l'equazione della circonferenza goniometrica è un caso particolare dell'equazione generale della circonferenza scritta in forma canonica ma comunque si potrebbe benissimo a livello anche di esercitazione semplicissima di geometria analitica la circonferenza goniometrica l'equazione della circonferenza goniometrica farla in prima liceo scientifico x quadro più y quadro uguale a 1 e così si dimostrerebbe la relazione pitagorica su seno e coseno di cui a cui abbiamo accennato nella lezione di ieri che verrebbe seno quadro alfa più coseno alfa praticamente uguale a 1 chiaro? grazie dell'attenzione